Ecco la video-lezione per immagini sulla quarta parte del capitolo 12, che mette a tema un aspetto particolare della vita dei comuni, tanto particolare quanto importante, ovvero la religione. Il titolo del paragrafo del libro, infatti, è Una religione per laici sempre più intraprendenti. C'è quindi tutta una ventata di novità nella vita religiosa dei comuni, e adesso vedremo bene di cosa si tratta. Siamo a pagina 268-270. Una specifica importante, che ho già scritto nelle indicazioni dell'attività, ma che ribadisco anche qui, guardate prima il video delle sottolineature del libro, che è più lungo, più impegnativo, in cui spiego tante cose. Questo video, invece, lo farò breve, solo come ricapitolazione, spiegherò poche cose. Sarà un riassunto per punti, quindi è facile che se non avete visto il video con le sottolineature del libro, non capiate granché. Sarò molto sintetico. Allora, il primo sottoparagrafo del libro si intitola Rimane viva l'autorità morale della Chiesa. Innanzitutto una premessa che faccio già nell'altro video. Il vescovo non aveva più l'autorità politica, perché era stata presa dal governo dei comuni, ma aveva ancora quella religiosa. Ma quella religiosa, certamente. Infatti qua, nell'immagine, e questa cosa non c'è nel libro, quindi userò questo video soprattutto per ragionare insieme sulle immagini, ho riportato questa immagine perché rappresenta San Gimignano, che protegge la città, la città di San Gimignano, appunto, e il santo patrono è rappresentato con la mitra del vescovo, cioè col cappello, col copricapo vescovile. Questo ci dice sia quanto era importante il patrono della città, ma anche che i vescovi erano ancora riconosciuti come figure religiose per il loro potere e la loro autorità religiosa. Bene. Rimane viva, dicevamo, l'autorità morale della Chiesa. In cosa si vede? Nell'importanza delle cattedrali, e anche qua, grazie a tecnologia, possiamo zoomare, si vede bene la cattedrale davanti alla piazza della città, in questa piccola rappresentazione della città, del borgo medieval di San Gimignano. La cattedrale era un punto di ritrovo importante, i tempi dell'anno erano scanditi dalle feste liturgiche, per esempio per tutti i cittadini era importantissimo l'avvento, la quaresima, le fiere che abbiamo studiato avvenivano durante le feste religiose. La Chiesa, sempre attraverso il vescovo come suo rappresentante, aveva autorità anche in campo economico, e anche questo lo spiego meglio nell'altro video, e non dimentichiamoci della funzione sociale dei monasteri, che grazie alle ricche donazioni che ricevevano, potevano costruire tanti ospedali e luoghi per aiutare le persone. Proprio sui monasteri, però, bisogna aggiungere una cosa. Proprio per questa loro crescente ricchezza, per via delle donazioni, i monaci nei monasteri in realtà iniziano ad allontanarsi dal carismo originario, non sono più così fedeli alla regola che il fondatore dell'ordine aveva stabilito, e soprattutto si distraggono molto. Grazie a queste nuove ricchezze si danno tante attività che li allontanano dal rigore della regola del fondatore. Nel caso dei benedettini, cioè dei seguaci di San Benedetto, ci ricordiamo benissimo la regola che era ora et labora, ecco, per esempio, i benedettini anche loro diventano sempre più ricchi grazie alle tante donazioni che ricevono e si distraggono sempre più dal lavoro, labora, e dalla preghiera, ora et labora. Quindi, nasce un desiderio di una nuova forma di vita religiosa. Nei laici, i laici sono i fedeli comuni, i cristiani comuni, quelli non consacrati, come me e voi, nei laici nasce il desiderio di una nuova forma di vita religiosa, di nuovi esempi da seguire. I monaci non sono più una forma di vita religiosa che testimonia la vera bellezza del cristianesimo. Cosa nascono quindi tre tipi di risposte? Le confraternite, di cui abbiamo già parlato, di cui parla anche il libro, quindi non lo approfondisco in questo video. I pellegrinaggi e gli ordini mendicanti, che sono la parte più importante. Abbiamo detto che le confraternite non le approfondiamo, i pellegrinaggi sono quindi il prossimo punto di cui parliamo. I pellegrinaggi non nascono in questo periodo, i pellegrinaggi, l'avevamo già detto, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato delle crociate, i pellegrinaggi sono un fenomeno antichissimo. Praticamente subito dopo la morte di Gesù la gente ha iniziato a viaggiare verso la Terra Santa. Cioè la gente. Tutti quelli che si convertivano al cristianesimo andavano a viaggiare in Terra Santa. Però in questo periodo ricevono un nuovo grande impulso, si diffondono molto. Quali erano le mete dei pellegrinaggi? Principali, la Terra Santa, ovviamente, Roma, ovviamente, Santiago di Compostela e anche San Michele al Gargano, in Puglia. I pellegrini avevano dei simboli. La conchiglia, che era simbolo di purificazione e di rigenerazione, il bastone, come sostegno al cammino, e poi questo curioso utensile, la zucca, che veniva svuotata al suo interno per essere usata come borraccia. Ultimo punto di questo breve video che, ripeto, riassume per punti tutto ciò che è scritto nel libro, sono gli ordini mendicanti. Allora, gli ordini mendicanti sono un nuovo tipo di ordine, diverso da quelli monastici, che nascono dal desiderio di seguire Gesù nella povertà più assoluta. Gli ordini mendicanti sono ordini che si danno come regola essenziale e principale la povertà. Si chiamano infatti ordini mendicanti perché facevano il voto di povertà e vivevano solo grazie alle lemosine che ricevevano dal popolo, dalla gente, dagli altri cristiani. Questi ordini mendicanti vivevano in città e non isolati come monasteri, quindi si occupavano di aiutare i poveri della città, di predicare, di dire le prediche durante le messe. E ce ne sono due, più importanti tra gli altri, in tutto il Medioevo. Due ordini mendicanti più importanti. Il primo è quello dei francescani, o frati minori, fondati da San Francesco d'Assisi, che è un ordine che si specializza, diciamo tra virgolette, nell'aiutare i poveri, i poveri della città, e poi i domenicani, ho dimenticato l'ultima sillaba, perdonatemi, i domenicani, detti anche frati predicatori, fondati da San Domenico di Guzman, uno spagnolo che fonda quest'ordine, chiamato anche dei frati predicatori, perché si era specializzato nella predicazione, cioè nell'annunciare la parola di Dio e il Vangelo. Quindi, entrambi gli ordini hanno come caratteristica principale in comune la povertà. I francescani si dedicano ai poveri, i domenicani allo studio della Bibbia e all'annuncio della parola di Dio. Come sempre commentiamo l'immagine che accompagna la slide, vedete, la spiegheremo meglio quando vi racconterò la vita di San Francesco, vedete comunque San Francesco, che sta tenendo in piedi una chiesa che crolla. Ed è un'immagine che ci mostra bene come questi ordini mendicanti abbiano rinnovato, in qualche modo anche salvato, la vita religiosa di quel periodo, in un periodo in cui i monasteri non erano più, i monaci nei monasteri, non erano più un esempio virtuoso ed affascinante e bello di vita cristiana, chi è che dà nuova vita al cristianesimo, nuova originalità, nuovo impulso al cristianesimo, gli ordini mendicanti. che si trascinano dietro centinaia, centinaia, e a volte migliaia di giovani. San Francesco e San Domenico, beh, ma lo vedremo meglio nelle loro storie, però è troppo interessante, quindi ve lo anticipo, erano seguiti da migliaia di giovani che andavano da loro così affascinati dal loro modo di vivere, che gli imploravano di accoglierli e di farsi seguire da loro. Un po' come avevamo già visto con San Benedetto. Bene. Buono studio. Vi saluto.